Ciao a tutti ragazzi, come state? Come sempre mi auguro che siate tutti molto bene. Io sono Francesca Lu ed eccomi di nuovo per presentarvi una mia nuovissima creazione. Tutte noi amiamo abbellirci con anelli, bracciali, collanine, fermaglie e che più ne ha più ne metta. Ovviamente ci teniamo affinché questi nostri monili siano preservati e quindi tenuti in un contenitore. E se questo contenitore fosse qualcosa di prezioso? E se fosse anche lui un piccolo gioiello? E allora non aggiungo nient'altro perché desidero che lo scopriate guardando il video. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale e vi sono piaciuta, iscrivetevi, diffondete il verbo di Francesca Lu e niente che altro aggiungere buona visione e tanti baci da Francesca Lu. Ciao! 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 Ciao!